Gianfranco Gunsulo, il nuovo presidente della Col di Retti, è stato eletto all'unanimità dall'Assemblea degli Associati. A lui il compito di guidare la Confederazione in un momento drammatico per il mondo agricolo. Il suo intento è quello di perseguire la linea tracciata a livello nazionale dall'organizzazione, promuovendo il territorio e il Made in Italy. L'impronta è quello praticamente di cambiare un po' le politiche che sono state fatte nel passato. E cioè non fare solo sindacalismo, ma cercare di dare al produttore risposte concrete. Le risposte concrete sono quelle che in questo momento la Col di Retti già sta portando e quindi io penso di continuare su questa linea, facendo nascere praticamente i famosi mercatini per esempio, oppure i negozi di Campagna Amica, dove praticamente il produttore va direttamente al consumatore. Quindi si ha un beneficio sia per il produttore che per il consumatore, garantendo naturalmente l'italianità del prodotto. Per Consul le questioni vanno risolte in maniera diversa, abbandono le iniziative estreme per questo motivo, oppure condividendo la protesta degli amici di altra agricoltura nei contenuti e per cui solidarizzano, lo stesso non si può dire nei modi dennosi per la salute umana. Allora noi solidarizziamo sicuramente con i tre, però chiediamo fortemente di, diciamo, ormai hanno ottenuto una risonanza mediatica non indifferente, tant'è vero che oggi sono una delegazione siciliana e a Roma. Quindi siccome la salute è importante anche per continuare questa battaglia, quindi io chiedo ai tre che sono comunque dei nostri amici di finirla qua e riprendersi e continuare la battaglia comunque con altre soluzioni. Ma insieme, naturalmente, non con queste manifestazioni un po' estremiste, perché la Coldiretti comunque non condivide più l'estremismo, tant'è vero che abbiamo notizia per quanto riguarda i forconi, che forse a gennaio vorrebbero un po' ripetere il blocco dell'anno scorso. Questo noi lo condanniamo fortemente, perché se già un'agricoltura è messa giù dalla non vendita o dalla vendita a pochi centesimi del prodotto, figuriamoci se ci blocchiamo.